Sì, siamo una squadra importante, lo stiamo dimostrando su tutti i campi. Anche in Coppa abbiamo avviato due brutti avversari perché siamo, secondo me, la squadra che ha preso gli avversari più brutti. Bisceglie, per quello che sta dimostrando il Bisceglie, è il Trinitavoli. Però siamo riusciti a fare sempre bene. I ragazzi sono incomiabili, prepariamo le partite, loro fanno tutto quello che proviamo. Mi dispiace solo che su azione dovevamo fare due o tre gol perché Santerussa ha messo un paio di palle veramente buone e non siamo riusciti a chiudere. Simone è un ragazzo che aveva avuto un problema fisico all'inizio, ha avuto un'operazione, poi con calma sta venendo su e ogni volta che lo utilizzo adesso è migliorato tanto e quindi non è un cambio, è come tutti gli altri un titolare che parte spesso dalla panchina però sicuramente gli verrà dato a lui come a tutti gli altri le possibilità. I titolari quelli siamo, è difficile ruotarli perché siamo questi. Però abbiamo questi ragazzini che entrano e fanno bene. A me sarebbe piaciuto allenare questa squadra senza avere l'obbligo di vincere. Sarebbe stato un bel lavoro da fare con i ragazzini perché abbiamo dei ragazzini che veramente possano giocare a calcio. Polidoro ha avuto un infortuno, non credo che lo possa recuperare domenica. Abbiamo già Cormio fuori, abbiamo già Pinto fuori, siamo proprio ai minimi termini. Però diciamo che dovrebbe arrivare qualcuno da ora a domenica, penso che arriverà qualcuno. Guarda il Real City dell'amico mio Pino, l'ho pulito, è una squadra strana. Io ho visto delle partite nelle quali ha perso e ha mantenuto il 70% di possesso palla. Noi abbiamo pure fatto questa bella battaglia oggi, mi auguro di arrivare bene. Domenica secondo me è la partita più difficile dell'anno. È una squadra tosta, ben allenata, un buon possesso palla. C'ha un giocatore che ha l'80% di realizzazione della sua squadra. L'attaccante è Percaud, Percaud, che è il capecondanile del torneo. Quindi dobbiamo stare attenti. Domani dobbiamo fare un defaticante, sabato dobbiamo fare una preparazione, dobbiamo fare una rifinitura che ci prepara la partita. Dobbiamo capircene come uscire.